Fra titubanze e rinvii prima ipotizzati e poi non concretizzati, questa mattina la popolazione studentesca pesarese è tornata sui banchi di scuola. Quei banchi, lasciati il 23 dicembre, è ritrovati dopo due settimane in cui la quarta ondata della pandemia ha aumentato la sua violenza e facilità di contagio. Si è tornati infatti con più studenti vaccinati, ma è una immunizzazione che viaggia a velocità inferiore del propagarsi della variante Omicron e della sua rapidità di contagio. Non a caso, la ripresa in presenza del 7 gennaio si è scontrata con defezioni per contagio e quarantene che hanno ingigantito le assenze all'appello della prima campanella, come confermato da Riccardo Rossini, dirigente scolastico del liceo Marconi di Pesaro, nonché presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi. Oggi è davvero una giornata a campare. Abbiamo subito un'ondata d'urto impressionante. Questa mattina il telefono, le mail sono state veramente calde. Circa 200 studenti ci hanno comunicato questa mattina che non ci sarebbero stati in presenza e che avrebbero voluto la DAD. E' stata loro garantita, devo dire. Quindi abbiamo in qualche modo affrontato la difficoltà e risolta. Certamente la situazione è complicata. Abbiamo avuto anche defezioni sul personale scolastico, una quindicina di docenti assenti, personale ATA, Bidelli. E' una scuola che è ripartita a macchia di Leopardo. Non ci sono state limitazioni a livello governativo sul 7 gennaio, altre le hanno invece imposte alcune ordinanze dei sindaci, come quelle di Urbino, Cagli e Cantiano, che hanno preferito posticipare il rientro sui banchi al 10 gennaio. Da più parti c'è la sensazione a non disdegnare la didattica a distanza come intermedia soluzione per ripartire in questa critica fase della quarta ondata. La didattica a distanza è stata demonizzata ingiustamente. E' uno strumento importante in situazioni come queste di emergenza. Non sono convinto che si dovesse partire tutti quanti in didattica a distanza. Lo scenario è completamente diverso rispetto allo scorso anno. C'è l'80% perlomeno nel superiore della popolazione studentesca vaccinata. Quello che si doveva fare, secondo me, è mettere subito in sicurezza il personale scolastico con la terza dose. E qui siamo veramente indietro. Vaccinare il più possibile gli studenti. Poi a quel punto per chi legittimamente intendeva o intende non vaccinarsi allora a questo punto garantire la DAD. Perché comunque è un servizio importante che mantiene in comunicazione lo studente con la scuola che ha un carattere sincrono, cioè lo studente interagisce in tempo reale. Quindi dal punto di vista, diciamo così, metodologico è piuttosto efficace. Certo, manca la parte della socializzazione, della relazione. Chi potrebbe dire il contrario? Ma in una situazione emergenziale come questa è una soluzione. Ma soprattutto per coloro che non sono vaccinati. Se si è vaccinati tutti, se si è in sicurezza, se riusciamo a derubricare questo Covid a influenza stagionale, come sembra essere, soprattutto per i vaccinati, allora basta le quarantene. È stato proposto nell'ultimo decreto ancora il tracciamento che andava in crisi con 50 positivi su 100.000 abitanti. Ora siamo vicino a 1.000 positivi su 100.000 abitanti. Il tracciamento l'Asno non ce la fa più. E noi non facciamo più il tracciamento, non ce la facciamo più. Stamattina con 200 persone che ti dicono che sono o positive o un contatto diretto, non ce la facciamo. Se non con tempi biblici, ma con tempi biblici il Covid non aspetta. Quindi la soluzione non è questa. La soluzione è la vaccinazione per tutti, la messa in sicurezza del personale scolastico. Vaccinazione per tutti e coloro che non lo vogliono fare, didattica a distanza, che è comunque uno strumento efficace. La soluzione è la vaccinazione per tutti.